Porto i saluti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sintacale, del Direttore Generale e della Banca Tutta e di tutti i collaboratori. Grazie per la presenza delle autorità civili, militari e religiose. Saluto il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, che ci ha onorato della sua presenza in questa occasione. Oggi iniziamo i festeggiamenti per quelli che sono gli anni che la Banca, da quando è stata costituita fino ad oggi, ha percorso. Diceva nella lettera che ha inviato Monsignor Bruno Forte, che Don Epipenio Giannico il 3 di maggio del 1903 diede luogo alla costituzione di questa banca. Lo fece per rallentare dalla morsa dell'usura i contadini, i piccoli artigiani dell'epoca. Oggi la BCC Abruzzo e Molise è una realtà di circa 4.000 soci con 16 filiali operanti su due regioni e tre province, esattamente la provincia di Chieti, quella di Campobasso e quella di Sernia. La banca ha percorso questi 120 anni sempre nella stessa direzione e sempre nello stesso verso. Quello del sostegno alle famiglie, il sostegno alle imprese, il sostegno agli enti del territorio. Nel fare questa attività essendo una cooperativa, quindi senza finalità di lucro, significa per noi elevare gli standard qualitativi dei servizi che ci vengono richiesti e gestire con efficienza questa banca in modo da irrobustirla e per continuare ad essere motore dello sviluppo economico delle comunità nelle quali operiamo. È difficile dire che la misurazione dell'attività di questa banca non può essere fatta, così come di tutte le altre BCC, non può essere fatta solo con i numeri perché noi siamo piccole banche ma siamo parte integrante e integrata delle comunità nelle quali operiamo e siamo motore di sviluppo soprattutto sociale oltre che economico da 120 anni a questa parte. Io mi congedo augurando a questa BCC altri 120 e 120 anni ancora e che la speranza sia quella che venga gestita e amministrata con lo spirito che è stata amministrata e gestita da 120 anni fino ad oggi. Grazie.